eccoci qua ben trovati io sono online sto skypeando con una giovane autrice chiara lucchesi ben trovata online su skype da dove ci stai contattando? io sono una ragazza di montemurlo quindi sto in provincia di prato dalla toscana da pratese a pratese esatto da pratese a pratese e te praticamente studi musica da sempre raccontaci un po' di te due secondi io ho iniziato a studiare che ero piccolissima avevo quattro anni e mezzo e mi sono innamorata del pianoforte e diciamo da giovanissima quindi è iniziata lo studio dello strumento e la mia carriera poi verso 11 anni sono entrata in conservatorio e finalmente anni fa mi sono laureata in pianoforte e musica da camera quindi che bello che bello veramente diciamo musica colta anche no musica colta ci sono anche le composizioni così chiamate leggere esatto oggi ci presenti una tua composizione leggera dedicata a dedicata a questo periodo e dedicata a tutti noi direi e come si intitola la canzone si chiama andrà tutto bene arcobalini appunti quindi io per sbaglio so che hai qualcosa ci fai sentire dieci secondi certo volentieri eccoci eh pronti prendo la chitarrina e vorresti correre e tornare che in questa cura c'è vita e ventura e vorresti prendere e partire sicuramente andare via lontano d'acqua andrà tutto bene e rimaniamo insieme lo puoi sapere se leggi dentro di te arcobaleni appesi su tutti i muri alle terrazze alle finestre arcobaleni appesi su tutti i muri alle terrazze alle finestre che bella allora il web ti applaude grazie è un applauso virtuale complimenti bellissime parole ci ha messo dentro noi italia arcobaleni finestre muri tutto qual qual tutte le volte che servono per fissare le emozioni dentro di noi senti a questo punto ti chiedo progetti perché è una situazione che si fa la proponiamo ai nostri amici editori che io ne ho online editori ragazzi andate sui profili di chiara ricordaceli allora io ho un canale mio youtube che si chiama chiara arte tutto attaccato dove appunto carico qualche video più che altro per ora adesso però l'ho fatto solamente delle cover e questa canzone che è proprio mia però diciamo che io comunque che si può sentire per intero certo sì sì c'è un video tra l'altro nel video ha partecipato anche una ragazza svizzera che io ho conosciuto su un social network quindi ho proprio unito non solo poi l'italia ma ho fatto una cosa anche internazionale internazionale e con questa cosa si sta dimostrando anche che i social network e la telematicità usata in maniera corretta è utile io ti dico allora grazie mille andate a trovare in gara e voi continuate a seguire ciao ciao grazie ciao grazie ciao 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 ciao